Che serata è? Che serata è per te? Non lo so, non so spiegare, è felicissima, bellissima, non lo so, è la mia prima coppa, quindi sono contenta. È il tuo primo trofeo da presidente tra Monta e Gua. Era difficile, qualche giorno fa parlavo ai ragazzi, gli ho detto che ci serviva un'impresa, e ho spiegato il significato di impresa, azione di ampia portata, non facile ma non impossibile.